ben ritrovati amiche ed amici con questo video andiamo a vedere la disponibilità di oggi 28 gennaio 2023 sono gli ultimi diciamo arrivi di standger come ben sapete molti di voi ben sapranno che a fine aprile chiuderanno man mano le varietà tenderanno a mancare e perciò approfittate della disponibilità attuale allora partiamo da qua con red white leopard qua abbiamo dei red scribelt e pigeon blood snake green angel e marlboro red check board le taglie piccole stanno quasi andando a terminare snake skin red e snake skin blue dark angel e leopards snake skin ma in ogni modo molti di questi già sono ancora disponibili pigeon blood silver e pigeon blood red cobalt solid e altri red white leopard pigeon blood blue e pigeon blood red rosso turcese verde snake tefe e solito turquais solid turquais e bahia santaremma turcese brillante verde snake allen quere german wonder allen quere german wonder blue diamond blu diamond red valentine ancora Blue Diamond e Yellow Yellow Solid Turchese Rosso ok poi andiamo sempre ai pesci tropicali di vario genere troviamo Neon, Petitelle Titeia Gimnoporimbus Rasbore Brachidaneo Tanictis Nematobricon Melanotenia Barbus Conconius Scalari Neri Pimia Velo Scalari Cobalt Bloom Scalari Marble Scalari Redae Scalari Amazon Scalari Gold Diamond e questi sono le coppiette e alcuni di altri discos solito qua è high body ok